mi sento prendere da un'ammirazione che in un certo senso mi sgomenta si dice che così siano gli amanti appassionati davanti all'oggetto della loro fiamma sarai dunque a modo mio un amante appassionata ecco una notizia che avrebbe lasciato di stucco i miei due mariti mia madre che non aveva mai appreso nulla se non scottandosi come diceva sapeva senza dubbio che si possiede nell'astinenza e soltanto nell'astinenza si alzava alle sei poi alle cinque e negli ultimi inverni della sua vita una piccola lampada rossa si accendeva molto tempo prima che l'angelus fendesse l'oscurità in quei momenti ancora notturni mia madre cantava per ammutolire non appena qualcuno poteva udirla così fa la lodola quando sale verso gli spazi più chiari e più liberi del cielo mia madre saliva saliva continuamente la scala delle ore cercando di afferrare il principio del principio so che cos'è quell'ebbrezza lei però inseguiva un raggio orizzontale rosso e il pallido zolfo che viene prima del raggio rosso voleva l'ala umida che la prima ape stira come un braccio quando cerco di immaginare quello che mi avrebbe detto c'è sempre un punto del suo discorso in cui mi do per vinta mi mancano le parole soprattutto l'argomento essenziale il biasimo e l'indulgenza imprevisti ugualmente accattivanti e che da lei scendevano lievi lenti a toccare il mio fango e ad affondarvi pian piano lenti a raffiorare ora riaffiorano da me e c'è chi li trova belli ma io so bene che pur essendo riconoscibili sono deformati secondo il mio codice personale il mio disinteresse meschino la mia generosità dal fiato corto e la mia sensualità che ha sempre avuto grazie al cielo gli occhi più grandi del ventre